Bentornati sul Canale Italia. Oggi con le ultime notizie come L'opinionista di uomini e donne dopo giorni di rumors e silenzi da parte della De Filippi ha svelato cosa accadrà realmente al dating shop meridiano di Canale 5 La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto tutti i palinsesti Mediaset In particolar modo a pagarne di più le coneguenze, i programmi condotti da Maria De Filippi Sia amici che uomini e donne sono stati sospesi per tutta la settimana, in modo da dare alla presentatrice il giusto tempo per riprendersi da questo grande dolore A seguito dello stop di web, però, in rete sono iniziate a circolare strane voci, sul futuro del formato o meglio su quelli ideati dalla fascino SRL I telespettatori a gran voce contestano la sospensione dei loro programmi preferiti e nonostante sia stato già confermato il loro ritorno, c'è chi continua ancora ad alimentare polemiche Motivo per cui a rompere definitivamente il silenzio ci ha pensato Gianni Sperti Il ritorno pronunciato di uomini e donne è confermato da Gianni Sperti Dalle polemiche nate in rete, dando uno sguardo ai commenti dei telespettatori si è capito che il pubblico amanti di Maria De Filippi si è diviso a metà Da un lato c'è chi sostiene la decisione di Pier Silvio Berlusconi nell'aver sospeso sia uomini e donne che amici per tutta la settimana, dall'altro invece, c'è chi è contro al ritorno dei due programmi previsti per la prossima settimana Nel dettaglio qualche utente crede che Maria abbia bisogno di ancora più tempo per riprendersi dal grave lutto che l'ha colpita Ad ogni, modo, ammettere una parola fine a tutti questi pettegolezzi ci ha pensato proprio l'opinionista e amico della De Filippi Gianni Sperti attraverso un'ing stories pubblicata poche ore fa ha voluto dire la sua, replicando alla bufera che ha travolto la presentatrice The show must go on, come avrebbe voluto Maurizio Costanzo, ha scritto Gianni, tra le storie, dopo aver presenziato ai funerali trasmessi in diretta tv Un chiaro riferimento quindi al ritorno dell'amatissimo dating pomeridiano Maria De Filippi, le date del ritorno.Ormai il ritorno di Maria De Filippi sembra accertato Stando alle ultime notizie circolate in rete, non ci sarebbero più dubbi Uomini e donne e amici ritorneranno in onda con il consueto orario da lunedì 6 marzo 2023 Sabato 3 marzo sarà trasmesso anche C'è posta per te, con la puntata sospesa del 26 febbraio Insomma, al momento tutto è confermato, Queen Mary è pronta a mettersi al lavoro insieme a tutti i suoi collaboratori Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti